buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova giornata di approfondimento di confronto e di scoperta per alcuni di voi di quello che è un adempimento che per la maggior parte dei comuni italiani è anche obbligatorio io sono marco sigaudo di studio sigaudo oggi è una nuova giornata di formazione che lo studio gratuito che lo studio mette a disposizione di tutti voi l'argomento di oggi è il bilancio consolidato e il gap diciamo con una supervisione di quello che è l'aspetto normativo e l'impegno operativo che viene previsto vedremo diversi argomenti tengo a precisare prima di iniziare come anche il corso di oggi sarà registrato e disponibile sul canale youtube dello studio per questo motivo vi invito comunque iscrivervi allo stesso in modo da essere costantemente aggiornate su quelle che sono le nuove pubblicazioni il video sarà corredato per coloro che hanno sottoscritto il pacchetto di formazione con formazione tutto pia sarà corredato dalle slide da altro materiale divulgativo a breve tra l'altro lanceremo sul mercato sul solito canale avrete modo di trovarlo anche sulla nostra home page il libro dedicato appositamente a quello che è l'adempimento del bilancio consolidato parliamo quindi di bilancio consolidato e gap analisi normativa e percorso di elaborazione del documento iniziamo con quella che è la definizione e la funzione del bilancio consolidato innanzitutto vediamo come il bilancio consolidato è un documento è un documento consultivo quindi sempre ragionando nell'ottica per cui le parole hanno un peso vediamo come già la definizione stessa va a caratterizzare il documento è un documento consultivo perché andiamo a dire che è un documento consultivo perché lo stesso viene elaborato sfruttando le informazioni che derivano da altri documenti che sono i rendiconti tenete presente che il fatto che sia un documento consultivo ha generato molti rumors anche per la sua approvazione se ci pensate non è così strano andare a credere che sia un po superflua un approvazione specifica di questo documento dal momento in cui è un aggregato di documenti che hanno già fatto tutti i loro passaggi di approvazione parliamo ad esempio degli atti di consiglio nel caso in cui si parli di enti locali parliamo ad esempio dei cd a nel caso in cui si parli di società private fondazioni parliamo comunque di tutta una serie di adempimenti già posti in essere quindi documento consultivo che evidenzia la situazione economica patrimoniale e finanziaria quindi anche qua da queste tre parole capiamo come il bilancio consolidato sia strutturato in diversi pezzi di documenti andremo ad analizzare sia l'aspetto economico che quello patrimoniale che quello finanziario ovviamente aspetto economico patrimoniale finanziario che hanno delle diverse trattazioni a seconda dell'ente che le pone in essere e vedremo come l'aspetto interessante sarà quello delle operazioni che vengono posti in essere per andare ad allineare in modo assolutamente trasversale i linguaggi adottati da tutte le realtà che vengono coinvolte nell'elaborazione del bilancio consolidato viene elaborato dalla società o dall'ente si parla di società in effetti perché la derivazione del bilancio consolidato è assolutamente privatistica di fatti gli organi di revisione si sono sentiti fortemente coinvolti in questo adempimento nel momento in cui è entrato in auge un po come fu per la contabilità economico patrimoniale perché si porta dietro un insieme di tecnicismi che rientrano nell'alea cognitiva a loro più consona diciamo quindi viene elaborato società o dall'ente posto al vertice ok quindi c'è diciamo immaginiamo una piramide c'è un'identità al vertice che permette di procedere con l'elaborazione di un documento di raggruppamento ovvero quella che controlla il gruppo rappresenta quindi il bilancio dell'entità economica costituita dal gruppo dell'ente locale bilanci consolidati teoricamente e poi vedremo perché teoricamente dovrebbero quindi servire a fornire quella che è una visione di insieme del sistema italia erano previsti prima per tutti i comuni vedremo poi come sono state riconosciute in realtà delle agevolazioni attuative per i comuni sotto i 5 mila abitanti questo documento oltre che funzione contabile anche strumento utile a costruire un sistema di programmazione e gestione del gruppo unitario questa parte mi è molto cara perché è un lavoro che insieme ai miei collaboratori stiamo portando avanti con stiamo portando avanti perché assolutamente non vedo il microfono sergio ciccioli ok benissimo un lavoro che stiamo portando avanti con aless lorenza rebecca di analisi e del controllo di gestione e di analisi di quelle che sono le partecipazioni le interazioni con gli altri gruppi allora nel momento in cui si parla di strumento che serve per finalizzare i risultati della gestione capite come non vi deve sembrare così strano il fatto che abbia introdotto anche il discorso del controllo di gestione ovviamente controllo di gestione si sviluppa per far sì che l'ente abbia modo costantemente di monitorare quello che è la direzione di sviluppo del suo percorso percorso che in linea di massima viene delineato all'interno del DUP documento unico di programmazione sia nella sua sezione strategica che in quella operativa e badate che io spingo fortemente affinché vengano adattati i DUP ordinari e comunque sostengo ancora di più la scelta nel momento in cui l'ente è coinvolto nel PNRR chiusa parentesi e oltre a questo è molto importante andare a dare la giusta attenzione il giusto peso a quello che è il discorso di monitoraggio delle partecipate che quindi sappiamo che c'è il piano di razionalizzazione le comunicazioni che ci sono gli obblighi di controllo quindi una visione di insieme di tutti quelli che sono i rapporti in essere è assolutamente utile pensate all'adempimento che sicuramente coinvolge tutti che è quello che si fa nel rendiconto quando si ha la parificazione delle partite quadro normativo di riferimento è sicuramente l'allegato 4.4 del 118 del 2011 decreto legislativo che ha introdotto la contabilità armonizzata e che per l'appunto è accompagnato da una serie di allegati nello specifico il 4.4 quello che fa riferimento al bilancio consolidato bilancio consolidato diventa quindi o meglio divenne un documento obbligatorio che deve essere redatto da vari enti da tutti gli enti in prima battuta e poi come anticipato vedremo in realtà come il cerchio dei soggetti obbligati sia andato via via restringendo difatti gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono quindi una facoltà non predisporre il bilancio consolidato diciamo che una facoltà che ben pochi si lasciano sfuggire è capitato raramente di trovare degli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che arbitrariamente abbiamo deciso di portare avanti l'adempimento sappiamo come i compiti siano già molti quindi la possibilità di avere questa agevolazione tutto sommato viene colta con estremo favore c'è stata la deliberazione della corte dei conti lo specifico 118 2022 che ha specificato quali sono i criteri per individuare riferimento temporale a cui fare riferimento per la definizione dei 5.000 abitanti vediamo di fatti verificare se l'ente superi la soglia dei 5.000 abitanti al fine di accertare l'obbligatorietà della predisposizione del bilancio perché il bilancio consolidato e qua citiamo la prima data perché il bilancio consolidato laddove obbligatorio deve e questo è un termine perentorio deve essere redatto entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui è riferito il rendiconto dell'esercizio dell'ente quando andiamo ad analizzare la popolazione quindi noi adesso stiamo facendo il consolidato del 23 sul rendiconto del 22 l'indice di popolazione di abitanti deve essere individuato al 31 dicembre dell'anno precedente quindi consolidato del 23 sui dati del 22 prende riferimento l'indice demografico del 21 2021 questa è la progressione c'è questa deliberazione che può servire come traccia per andare a definire al meglio qual è la popolazione vediamo poi quali sono i richiami per la tenuta della contabilità economico patrimoniale allora la facoltà anche qua di non tenere la contabilità economico patrimoniale prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del tuel e non prevede alcuna limitazione temporale questo è altrettanto importante perché spesso si dice ma devo farlo tutti gli anni vale una volta la dichiarazione se non l'ho fatta all'inizio non posso più farla e non prevede alcuna limitazione temporale per cui la deliberazione con cui l'ente manifesta la volontà di avvalersi della facoltà suddetta ovvero di non tenere la contabilità economico patrimoniale e da ritenere valida non solo per esercizio di adozione ma anche per esercizi successivi ok fino a nuova e diversa determinazione dell'ente quindi deciso una volta possiamo portarlo avanti vediamo come il diritto commerciale ci fornisce una prima definizione di gruppo diritto commerciale la sussistenza di un gruppo si verifica in presenza di alcune condizioni distinzione giuridica tra i diversi soggetti che vi partecipano e quindi vedremo come per l'appunto la molteplicità dei soggetti controllati partecipanti partecipati enti strumentali piuttosto che entrano a far parte di quello che è il gruppo su cui andiamo a lavorare il bilancio consolidato unicità del soggetto economico per la generalità delle aziende quindi il vertice unitarietà e complementarietà ai fini ed obiettivi perseguiti mediante il ricorso alla direzione economica unitaria fa un po un riferimento a quello che era la definizione del perseguimento degli obiettivi comuni del controllo di gestione che abbiamo detto circa cinque minuti fa bilancio consolidato viene quindi redatto per quali motivi questo è quello che viene detto a livello normativo non è per sopperire alle carenze informative e dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevante partecipazione in società dando una rappresentazione anche di natura contabile delle proprie scelte di indirizzo pianificazione controllo è molto importante lo dico all'inizio mentre siete ancora tutti svegli distinguere quello che è il risultato del bilancio consolidato da quello che è il risultato di amministrazione ok e io vedo che voi annuite dite ma sì ovvio fidatevi fidatevi che per esperienza di vita vissuta in diverse realtà ancora si fa un po difficoltà ad avere una visione distinta di questi due risultati e si fa ancora più difficoltà ad accettare il fatto ad esempio di un risultato economico negativo occhio cioè i dati e le informazioni sono differenti e come giusto che sia derivano dall'incrocio e dall'aggregazione di documenti con fonti diverse ok quindi visto quello che è il primo obiettivo vediamo attribuire all'amministrazione capogruppo quindi di nuovo vediamo come c'è l'identificazione di un'unità capogruppo unico un nuovo strumento per programmare gestire controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo compressivo di enti società questo in realtà non è proprio facile diciamocelo non è che il bilancio consolidato sia la panacea per tutti i mali è un qualcosa grazie al quale entriamo in possesso di documenti contabili e di e abbiamo delle interazioni con gli organismi partecipati che normalmente prima non avremmo dato così come scontati nella loro attuazione diciamo sta poi a noi procedere con l'analisi di questi documenti nel modo più adeguato ok poi come quando si dice ho fatto il controllo di gestione diciamo lo fai vedere e si vede che un insieme di stampe di numeri dal programma contabile quello non è controllo di gestione quello è odio madre natura e voglio di sboscare l'amazzonia quindi stampo centinaia di pagine di tabelle che rientra in quello che la gestione ordinario ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo un'amministrazione pubblica incluso risultato economico che va un po a braccetto con quanto detto prima ovvero noi procediamo con quello che è l'analisi di dati aggregati disporre di un efficace strumento di programmazione dell'attività svolta e di verifica dei risultati globali e rappresentare un utile strumento di comunicazione per i soggetti esterni detentori di interessi stakeholders fantastica definizione questa se la andiamo a collocare all'interno dell'attività privata un po meno onestamente se ne trasmettiamo il dato secco così asciutto rispetto a quello che un'identità pubblica in funzione della normativa vediamo come siano tenuti a redigere ovvero chi è che deve redigere il consolidato che rappresenta in modo veritiere corretto la situazione finanziaria patrimoniale e risultato economico abbiamo visto le tre derivazioni e livelli di composizione del bilancio attraverso i suoi enti strumentali sulle società controllate le società del decreto 118 2011 ovvero regioni comuni province città metropolitane comunità montane isolane e unioni di comuni quindi vediamo un insieme di realtà sufficientemente ampio da far sì che comunque ad oggi stante il fatto che il bilancio consolidato è diventato facoltativo per i comuni sotto i 5.000 abitanti vediamo comunque che c'è un coinvolgimento di realtà piuttosto ampio parliamo subito della cosa che attira maggiormente l'attenzione le sanzioni prima ci mettiamo i termini di approvazione quando parliamo di bilancio consolidato parliamo obbligatoriamente di tempistica quindi bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità qua vedete come quello che viene riportato è un estratto a volte integrato ma comunque un estratto reale di quello che è il principio 4.4 principio 4.4 che tolte alcune parti patrimonio netto e le esemplificazioni che veramente potevamo impegnarci un po' di più a renderle leggibili anche esseri umani normodotati come posso essere io ma è comunque scritto bene approfondito e va a tracciare tutti gli spunti torna utile andare a dargli un ordine logico così come viene fatto poi nelle slide nel fascicolo che ho detto bilancio consolidato supera divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche del gruppo dell'ente locale e devono seguendo le istruzioni della capogruppo rispettare il presente principio e qua cominciate a accendere una lampadina cosa vediamo qua seguendo le istruzioni della capogruppo quindi primo compito della capogruppo o perlomeno uno dei compiti della capogruppo è quella di fornire le istruzioni ad esempio con gli enti con cui noi collaboriamo questa è una delle sezioni che portiamo in sviluppo prioritario quindi dare le istruzioni le indicazioni corrette andare a specificare quali sono i documenti che devono essere forniti e così via ogni tanto se vedete che giro la testa non è uno scatto nervoso perché mi sta venendo un infarto ma perché devo vedere quali persone stanno entrando e attivarne ma io sono un uomo e quindi una cosa alla volta faccio allora collaborare fattivamente per la riuscita nei risultati e nei tempi del processo di consolidamento quindi tutti quanti congiuntamente dobbiamo collaborare per rispettare le tempistiche chi tra di voi fa già o ha fatto bilancio consolidato sa che a volte soprattutto quando ci sono delle situazioni particolari non è così scontato ricevere la documentazione e vedremo poi come si può eventualmente procedere poi da quando è obbligatorio dal 2015 2016 2017 per gli enti sperimentatori e così via per i comuni sotto i 5.000 di nuovo ribadiamo come non sia obbligatorio predisposto in attuazione del decreto 118 2011 e del principio contabile 4.4 soprattutto composto da conto economico stato patrimoniale quindi parliamo di un documento un bilancio che sarà strutturato per l'appunto con l'analisi del conto economico con l'analisi dello stato patrimoniale e che sarà accompagnato da documenti esplicativi documenti esplicativi che dovranno essere redatti bene perché perché entreranno poi di merito all'interno di quelli che sono i questionari che devono andare a ridigere gli organi di revisione quindi più riusciamo ad integrare già nelle relazioni quelli che sono i livelli di dettaglio e di analisi quindi dei documenti che poi verranno presi in considerazione dei nostri organi di controllo più facile sarà per loro il lavoro e minore di conseguenza sarà il lavoro per tutti riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio quindi il bilancio consolidato fa riferimento al 31 dicembre predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento quindi al gruppo amministrazione pubblica l'area di consolidamento quindi soggetti che vengono consolidati individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce perché in realtà questo tipo di analisi e definizione dovrebbe precedere l'altra data che abbiamo visto che era quella di termine perentorio che vi ho detto quella di settembre quindi entro il 31 dicembre io attuerò presumibilmente già un certo livello di analisi finalizzato ad andare a far emergere quali sono i soggetti che devo portare nel mio gap e nel mio perimetro di consolidamento approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere questo è importante perché vi ricordate quando abbiamo parlato delle istruzioni questo comunque non andiamo a ribadirlo a dirlo all'interno ma già la normativa ti dice fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità quindi di nuovo abbiamo un altro adempimento normativo dell'ente che prevede un una partecipazione all'attuazione dello stesso del regolamento di contabilità guardatelo questo regolamento di contabilità l'ho già detto in diverse sedi è importante importante che sia aggiornato ed è importante che sia integrato nelle parti principali con le manovre utili per far sì che il documento sia più gestibile oppure con altro atto proprio oppure entro il termine del 20 luglio successivo a quello di riferimento perché 20 luglio e non 31 dicembre perché ci devono essere i tempi di attuazione di approvazione di deliberazione dei bilanci piuttosto che dei rendiconti o quant'altro quindi noi lavoriamo sempre come abbiamo visto all'inizio su documenti consuntivi quali sono le sanzioni l'articolo 9 del decreto legge 113 del 2016 va ad evidenziare quali sono le sanzioni in caso di tardiva approvazione del bilancio consolidato ma non solo del bilancio consolidato vediamo anche del bilancio di previsione del rendiconto o in caso di tardivo invio ok delle informazioni banca dati amministrazione pubblica entro 30 giorni dalla scadenza termini di approvazione quindi 30 settembre 30 giorni devo effettuare poi la pubblicazione qual è la sanzione? la sanzione è il divieto totale di assunzione di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa e di somministrazione anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto fino a quando non si è provveduto ad adempiere ovvero io non rispetto il termine dei 30 giorni ma sono tranquillissimo perché so che non voglio fare assunzioni fino a febbraio del prossimo anno posso anche spedire tutto a novembre a dicembre perché tanto non mi vado a bloccare le assunzioni ma nel momento in cui io andrò ad effettuare la spedizione alla banca dati dell'amministrazione pubblica delle informazioni collegate al consolidato l'impianto sanzionatorio verrà meno molto importante ma questo sicuramente già lo sapete è nel procedere con l'analisi delle checklist a fronte delle assunzioni non solo andare a rilevare quello che è la definizione pianta organica, l'analisi del PIAO, la capacità assunzionale e così via ma anche andare a vedere che questi adempimenti obbligatori siano stati posti in essere. Diversamente cosa rischio? Rischio di andare a effettuare delle assunzioni in violazione alla normativa andando a innestare un percorso di causa-effetto che può far emergere delle responsabilità anche legate all'individuo. E' fatto altresì di vieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della disposizione del precedente periodo. Di cosa parliamo? Parliamo dei contratti di servizio continuativo con erogazione di servizi, di personale presso la struttura che si configurano come elusioni dei rapporti lavorativi. Fate molta attenzione a questo anche perché sappiamo oramai, ma sicuramente vi ricordo una cosa tutti già ben nota, che solo le società interinali possono effettuare somministrazione di questo tipo. Con sentenza 105 del 2022 la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, ha affermato che scatta il danno erariale per il dirigente del comune che procede all'assunzione di personale senza che sia stato approvato il bilancio consolidato dell'ente. Se vi ricordate quando prima ho detto, poco fa, circa tre minuti fa, ho detto, si innesta un circuito di causa-effetto che possono prevedere poi l'emersione di responsabilità individuali, facevo proprio riferimento a questo. Pure la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, si è espressa dicendo che potrebbe essere chiamato in causa il dirigente o comunque la più responsabile. E' importante, così come dicevo prima, di andare a effettuare un'analisi di merito e di cognizione della materia su quello che è il risultato di amministrazione, che quindi il risultato del bilancio consolidato è diverso dal risultato di amministrazione, il risultato economico non vuol dire che si sia più o meno bravi, quindi andare a staccare i due momenti di operatività e di riflesso del consolidato rispetto alla gestione finanziaria. Qua vediamo cosa? La mancata approvazione del consolidato, dentro i termini, non causa lo scioglimento del Consiglio Comunale e il conseguente commissariamento, cosa che invece sappiamo che accompagna e caratterizza addempimenti, quale il bilancio di previsione e il rendiconto. Tutto ciò che ho detto viene messo in discussione dal punto di vista dell'impianto sanzionatorio nel momento in cui parliamo di PNRR. Poi sapete che l'Italia ruota intorno al PNRR da un anno a questa parte, tutti quanti facciamo PNRR e tutti quanti dobbiamo partire facendo PNRR, non importa che tu sia Leone o Gazzella, devi correre per fare PNRR. Quindi per fare il PNRR tu comunque puoi assumere. Tenete presente, non in assoluto, anche lì ci sono i limiti assunzionali, non è assolutamente questa la sede per andare a definirli, ma anche nel testo che abbiamo fatto sul PNRR insieme al dottor Cardiello, nello specifico per la parte del personale, andiamo a analizzare in modo approfondito e dettagliato quello che sono le normative, appunto per le assunzioni del personale, tempo determinato o indeterminato. Passiamo ora, fatta questa parte introduttiva, che è servita a meglio definire cos'è il bilancio consolidato, come si va a sviluppare, come è strutturato, quali sono le tempistiche e quali sono gli impianti sanzionatori, passiamo ora a scoprire il GAP. GAP che è l'acronimo di Gruppo Amministrazione Pubblica e vediamo un po' di che cosa si va a parlare. Il termine Gruppo Amministrazione Pubblica comprende gli enti e gli organismi strumentali, enti e organismi strumentali, poi li andremo a vedere nelle loro definizioni, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, così come definito dal Decreto Legislativo 118 2011. Quindi nel Gruppo Amministrazione Pubblica entrano tutte queste realtà. La definizione, quando parliamo di controllo, vediamo che la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento a una nozione di controllo, di diritto, di fatto e contrattuale. Quindi, per fare il consolidato, per fare il bilancio consolidato, il primo passaggio obbligatorio è la definizione del GAP. Per definire il GAP, tu devi andare a prendere in considerazione tutte le realtà con cui lenta dei rapporti, sempre nel rispetto della normativa vigente, e andare ad effettuare poi delle analisi puntuali, finalizzate anche a far emergere la presenza di un controllo, che può essere per l'appunto di diritto di fatto e contrattuale. Parliamo di controllo di diritto quando hai la maggioranza dei voti. E questo viene facile, lo vedi anche dalle visure, lo vedi da un insieme di documenti disponibili. Controllo di fatto. Si verifica quando l'ente, pur non avendo la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'altra società. Quindi io non ho più la maggioranza, ma comunque sono in grado, con la mia partecipazione, di influenzarla a tal modo da controllare. Infine vi è il controllo contrattuale, che è quello, influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali. Rientra in questa fattispecie il controllo che verifica l'ipotesi di esistenza di una società A che fornisce in via esclusiva una società B una determinata materia prima essenziale per il processo produttivo B. Va da sé che se A è l'unico fornitore di B e senza quella materia B non può lavorare, A controlla B. Questo è controllo contrattuale, quindi quando grazie al tipo di rapporto contrattuale esistente tra le parti io ti ho un livello di controllo su di te che va al di là del fatto che io abbia delle partecipazioni. Chi è che può fare parte del gruppo di amministrazione pubblica? Allora, organismi strumentali delle regioni e degli enti locali. Quali sono? Organismi strumentali delle regioni e degli enti locali sono le loro articolazioni organizzative dotate di autonomia gestionale contabili ma assolutamente prive di personalità giuridica. La particolarità degli organismi strumentali qual è che essendo privi di personalità giuridica vengono già ricompresi all'interno di quello che è il gruppo di definizione della capogruppo nella contabilità, nel rendiconto. Poi abbiamo gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo costituiti da enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo al possesso diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili. Vi ricordate i tre tipi di controllo? Quindi al potere assegnato dalla legge, statuto, convenzione, di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche, nonché decide l'ordine di indirizzo, pianificazione e programmazione. Quindi posso non avere l'asset societario, ma comunque ho potere di elegibilità degli organi che decidono come viene sviluppata la società. Esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche, le politiche, decidere in ordine di indirizzo e così via. Altro passaggio importante è questo, quando hai il controllo. Ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge per percentuali superiori alla quota di partecipazione, carino richiamo nei casi consentiti dalla legge perché dietro alla normativa dei ripiani di disavanzi o del coinvolgimento dell'ente locale all'interno dei disavanzi si apre un mondo. Esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, vi ricordate il passaggio A, B, eccetera, eccetera, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante, questo è un passaggio interessante, si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente, ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazione e esenzione. Tutti voi quando parte dei contratti con soggetti o enti terzi andate a volte a prendere in considerazione l'applicabilità di queste clausole. Sappiate che nei momenti in cui andate a definire quello che è l'asset dei rapporti giuridici e l'applicabilità di queste clausole, voi state andando anche a definire il fatto e il posizionamento di queste realtà all'interno, eventualmente, del bilancio consolidato, che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante, contratti di servizio pubblico e concessione stipulati con ente aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tre contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante. Parliamo invece adesso della attività prevalente, con la definizione però percentuale, così andiamo a dare un parametro ulteriore. L'attività si definisce prevalente, selente, controllato, ovviamente richiamiamo quello detto una slide fa, abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo, superiore all'80% dei ricavi complessivi. Vedete già da questa prima analisi, da queste prime informazioni che vengono trasmesse, come ci sia una sorta di percorso ad albero, quindi tu vai ad analizzare quello che è il tuo gruppo facendoti una serie di domande concatenate che meglio ti portano a definire quali sono i soggetti con cui tu arriverai a consolidare, andando al contempo a fornire il giustificativo del perché tu li abbia inglobati all'interno del tuo bilancio consolidato. Già questi passaggi rientrano all'interno di quelle relazioni di cui abbiamo parlato in precedenza, relazione nota integrativa e relazione dell'organo di revisione. Clausola di esclusione, ad esempio l'applicativo che abbiamo sviluppato e con cui noi svolgiamo il lavoro per i bilanci consolidati ha una serie di domande, una di queste è proprio questa, l'ente o l'azienda? Ah, su questo ente, su questa azienda è stato avviato un procedimento concorsuale o fallimento? Sì, no, se hai sì viene escluso automaticamente perché la norma che cosa ti dice? La norma ti dice non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale. Al di là delle procedure concorsuali però andiamo a salvare in zona Cesarini, i quali? Mentre sono compresi gli enti in liquidazione. Ok? Poi andiamo a vedere adesso gli enti strumentali. Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica sono costituiti dagli enti pubblici e privati delle aziende nei cui confronti la capogruppo a una partecipazione in assenza delle condizioni di qui sopra, ovvero tutte quelle che abbiamo detto prima di controllo. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorsi e le fondazioni. Ok? Quindi qua andiamo a distinguere gli enti strumentali partecipati da quelli controllati. Come? Se non sono controllati, sono partecipati. Società. Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo. Quando? Quando la capogruppo ha il possesso diretto o indiretto anche sulla scorta di patti parasociali della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria. Quindi qua vediamo di nuovo come vai a esercitare una maggioranza su quello che è l'iter decisionale. ha il diritto in virtù di un contratto di una clausola statutaria di esercitare influenza dominante, ovviamente sempre nel rispetto della normativa esistente. Influenza dominante quando si manifesta, si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contratto. ritorno su quello detto prima. Se fate voi il consolidato, se definite voi il gruppo, prendete questi riferimenti e fatevi uno schemino ad albero, perché poi le domande da farsi sono quelle, con le eccezioni, controllate integralmente in stato di fallimento e in liquidazione, ma le definizioni sono quelle, sì, no, sì, no, e arrivi a capire. che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante, contratti di servizio pubblico e concessione, quindi quello che abbiamo visto prima. Quando si definisce prevalente, l'attività si definisce prevalente, vediamo anche per le società come valga la definizione di prevalenza nel momento in cui la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiore all'80% dell'intero fatturato. Le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo costituite dalla società totale partecipazione pubblica affidatari e diretti di servizi pubblici locali o ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione, entrano nel gruppo amministrazione pubblica. Ancora vediamo come, a decorrere dal 2019 con riferimento al 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari a superiori al 20% o 10% se trattasi di società quotata. Questo è altresì importante perché particolare attenzione merita il caso delle società miste, perché particolare attenzione, perché qua parliamo, è vero che parliamo del 2018, ormai siamo in analisi sul 22, quindi un po' di acqua sotto i ponti ne è passata, ma comunque, delle società miste che fino al 2018 erano da consolidare solo se controllate, mentre dal 2018 anche se partecipate in misura pari o superiore al 20%, 10% se quotate, quindi vediamo che viene ripresa la percentuale che è stata dichiarata in precedenza. Importante questo, i fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta. Il gruppo dell'amministrazione pubblica può comprendere anche i gruppi intermedi di amministrazione pubblica o imprese. In tal caso, il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi, ovvero consolido i consolidati. Quindi mi evito di andare a fare un'analisi di consolidamento dedicata e approfondita per ogni elemento, per ogni realtà, ma vado a consolidare il loro consolidato. e capite che si semplifica la vita. Sono oggetto di consolidamento dal 2018 le società partecipate indirettamente e le società affidatarie di servizi non interamente detenuti da soggetti pubblici sempre che superano le percentuali di partecipazioni previste. Nel caso di società partecipata indirettamente la quota di partecipazione si calcola nei termini di voto del NET. È plausibile comunque ritenere che la partecipazione indiretta venga già contemplata all'interno del consolidato della controllata, quindi da fare attenzione anche a questo perché magari viene già calcolato. Negli enti strumentali partecipati, quindi usciamo dalle società, torniamo agli enti, sono rappresentati anche tutti quegli enti dove non sono detenuti poteri di indirizzo e controllo, ma solo una partecipazione che non sempre può risultare rilevante ai fini del consolidamento, ma che, come nel caso di un'associazione, può limitarsi a una condivisione di finalità. Quindi, come abbiamo visto, ai fini della definizione del gap, dobbiamo fare un'analisi assolutamente approfondita che ci permetta di far emergere al meglio le realtà che dobbiamo andare a includere all'interno del consolidato. Vediamo quali sono le azioni preparatorie al consolidamento. Gli enti capogruppo, l'ente capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti. Gli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti di aziende e società che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche, consolidato del consolidato. Gli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio di consolidato, ovvero il perimetro di consolidamento che è lo step successivo. Faccio il gruppo amministrazione pubblica e poi mi faccio il perimetro di consolidamento. I due elenchi relativi ai giornamenti sono oggetto di approvazione da parte d'aggiunta. Perché si parla di aggiornamenti? Perché abbiamo detto che questo, in teoria, dovrebbe essere fatto entro il 31 dicembre. Facendolo il 31 dicembre, su quali dati vado a fare riferimento? Vado a fare riferimento sui dati dell'anno prima, ovviamente, perché non si sono ancora chiusi i bilanci. Quindi può darsi che poi, andando ad analizzare i dati attuali, si generino degli scostamenti che mi portino a revisionare questi elenchi. Gli enti e le società del gruppo, compresi nell'elenco di qui sopra, possono non essere inseriti nel caso, nell'elenco in cui si identificano i soggetti da consolidare nei casi di irrilevanza. quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiere e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico del gruppo. L'irrilevanza che è stata poi, io ormai dico recentemente, ma recentemente rivista nelle sue percentuali. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri, una incide, ripeto, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri una incidenza inferiore al 3% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogrupa. Cosa prendiamo in considerazione? Prendiamo in considerazione il totale dell'attivo, il patrimonio netto e il totale dei ricavi caratteristici. Qualora io abbia un patrimonio netto negativo, prendo in considerazione solo gli altri due elementi. Con riferimento allo 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei presenti un inferiore al 3%. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società sia all'insieme degli enti e società ritenuti scarsamente significativi. Si deve evitare che l'inclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottraga il bilancio di gruppo informazioni di lidievo. Quindi, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, quindi a fronte dell'analisi del 3% del butto fuori, ma passo ancora al setaccio una volta tutto ciò che ho buttato fuori. Ok? Pertanto, ai fini dell'inclusione la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare per ciascuno dei parametri sopraindicati un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale. Ok? Quindi, vediamo come ci fosse prima il 3% e adesso invece siamo arrivati a un'ulteriore percentuale di disamina del 10%. se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10% la capogruppo individua ecco, oramai è vecchia questa come cosa però è particolare la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per un'irrilevanza un'incidenza inferiore al 10%. Ma come fai tu a decidere quali tirare fuori e quali no? È sempre il grande dilemma perché potresti essere tacciato di preferenza per agevolarti il lavoro. Un po' particolare questo. Comunque avete visto l'influenza analitica per ognuno dei tre punti del 3%, scarto quelli che non soddisfano il 3%, faccio un raggruppamento e vedo se passo o meno il 10%. Se passo il 10%, scelgo degli elementi da consolidare posso poi tenerne fuori alcuni fin tanto che non vado sotto al 10%. È sufficiente che uno solo dei tre parametri sia sopra solde perché scatti l'obbligo di consolidamento. Si parlava di tutti i parametri. Ok? Al fine di garantire la significatività ed è qua poi la frase che un po' ti mette ulteriormente in crisi, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiore a quelli richiamati. Quindi è vero che tu li puoi escludere, ma li puoi escludere. A decorre dal 2017 sono considerati irrilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, quindi non vai a fare l'analisi. Le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del capogruppo a prescindere dalla quota di partecipazione. la percentuale di irrilevanza riferita ai ricavi è determinata rapportando componenti positivi del reddito al totale dei componenti positivi della gestione dell'ente e ragioni sui totali, ovvero è opportuno precisare che la verifica di irrilevanza deve essere effettuata considerando per ciascuno dei tre parametri il valore complessivo senza abbattimenti in proporzione alla quota di partecipazione quindi non vado a fare le ripartizioni prende il valore complessivo in ogni caso salvo il caso dell'affidamento diretto ricordate che l'abbiamo visto prima dove non vado a prendere in considerazione le percentuali sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiore all'1% del capitale della società partecipata sappiamo però che si verifica spesso che ci sono delle in-house con affidamenti diretti caratterizzati da quote di partecipazione bassissima che dovrebbero essere rilevanti perché poi si parla di centinaia di euro ma tu devi comunque procedere con il consolidamento quindi ti caricano di enti da consolidare quando tu ne faresti volontariamente a meno motivi straordinari per l'esclusione ripeto straordinari terremoti o bene altre calamità naturali se le scadenze previsti i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati e trasmesso il pre-consultivo il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione ovvero se non vi arriva il materiale lo lavorate con quello che avete si andrà poi nella relazione nella nota integrativa ad andare a specificare quando il materiale invece è estremamente vecchio non si procede con il consolidamento entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto è avvenuto nel corso della gestione quello che abbiamo detto che parti con il primo elenco a dicembre fai poi gli aggiornamenti del caso e vedi un attimino da che parte si vada la dichiarazione con la giunta prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio l'amministrazione pubblica al capogruppo che cosa fa? comunica gli enti e le aziende e la società comprese nel perimetro di consolidamento che saranno comprese nel proprio bilancio trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compreso nel consolidato molto utile perché così loro possono vedere se ci sono delle relazioni incrociate impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato le famose istruzioni anche in senso più allargato di cui parlavamo prima tali direttive riguardano modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio delle informazioni integrative necessarie i bilanci di esercizio e qua riprendiamo la data del 20 i bilanci di esercizio e documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro dieci giorni dall'approvazione in ogni caso entro il 20 luglio bilanci consolidati anche qua del 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento le indicazioni di dettaglio riguardanti le documentazioni e informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere quindi ci sono le istruzioni come dicevamo prima di norme documenti richiesti comprendono stato patrimoniale conto economico e informazioni di dettaglio riguardanti operazioni interne al gruppo di fatto noi quando sviluppiamo il lavoro spesso distribuiamo un questionario anche analitico all'interno del quale in modo guidato si procede con la raccolta delle informazioni che prevedono le interazioni tra capogruppo e società o anche tra dico società ma comunque elemento del perimetro di consolidamento ed altri elementi linee guida concernenti i criteri di valutazione del bilancio compatibili con la disciplina civilistica arriviamo a quello che è la redazione del consolidato i componenti del gruppo trasmettono la documentazione bilancio consolidato il bilancio per quelli che sono capogruppo quindi consolidato del consolidato bilancio di esercizio rendi conto consolidato quando questo viene redatto sappiamo che è una casistica particolare nei casi in cui i criteri di valutazione e consolidamento dotati nell'elaborazione non sia tra loro uniforme l'uniformità è ottenuta portando a tali bilancio opportune rettifiche in sede di consolidamento quando succede questo ad esempio questo succede ad esempio quando si hanno degli ammortamenti quindi costruzione dei fondi ammortamenti diversi quindi aliquote differenti un esempio molto banale ma serve rendere l'idea tra realtà diverse oppure quando c'è un fondo svalutazione obbligatorio fatto in quote diverse tutte queste fasi operazioni di allineamento possono non essere prese in considerazione quando non vanno a inficiare quella che è la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato quindi qualora io poi non vado ad applicare questi interventi queste linee operative nelle mie relazioni note integrative andrò comunque a citarli la capogruppo in questo caso deve farsi carico della corretta integrazione dei bilanci verificando i criteri di valutazione procedendo alle opportune rettifiche quelle che vengono definite operazioni di pre consolidamento e alla loro omogeneizzazione allora all'interno della nota integrativa vado a elaborare il livello di dettaglio che serve per leggere il bilancio consolidato e quindi vado anche a dare rilievo a tutte quelle che sono le clausole di realizzazione il consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo hanno effettuato con terzi stranei per questo faccio anche le operazioni di elisione nei rapporti che intercorrono tra le società tra gli enti che fanno parte del perimetro di consolidamento diversamente sarebbe gonfiato le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento nello specifico vanno a evidenziare le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo di amministrazione pubblica vendo un bene compro un bene e rido la vendita e l'acquisto ad esempio poi tutte tutte le esemplificazioni ok le trovate poi nel fascicolo di approfondimento modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi presenza di eventuali disallineamenti quando si fa la conciliazione dei crediti debiti ad esempio particolare attenzione va posta alle partite in transito per evitare che ci sia anche un disallineamento temporale ok qua c'è l'esempio ad esempio fatture emesse da una componente del gruppo e non ancora contabilizzate dalla controparca questo è un disallineamento delle partite in transito parliamo di interventi neutri o meno la maggior parte degli interventi di rettifica non modifica non modifica non importo del risultato economico del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive passive si parla ad esempio di crediti debiti oneri e proventi e così via cioè tolgo più e tolgo meno di importo pari altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato quando ad esempio ottengo a seguito di una denazione di beni una plus o una minus valenza quindi se vado a neutralizzare questo beneficio economico andrò ovviamente ad agire su quello che è il risultato economico stesso particolari interventi di elisione sono costituiti dalla eliminazione del valore contabile delle partecipazioni quando all'inizio una delle prime operazioni che vado effettivamente a sviluppare quella di elisione delle partecipazioni incrociate in funzione della quota quindi controllo piuttosto che partecipazione analogo eliminazione dei valori della partecipazione tra i componenti del gruppo eliminazione degli utili delle perdite nelle operazioni infragruppo e anche questa particolarità che riguarda ad esempio l'IVA nel caso di operazioni tra la controllante e la sua controllata oggetto di un diforme trattamento l'imposta non è oggetto di elisione ad esempio l'imposta sul valore aggiunto nei casi in cui risulti indetraibile pagata dalla capogruppo a componente del gruppo per cui l'IVA è detraibile non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato ok perché la tratto diversamente l'IVA viene trattata diversamente stessa cosa qua quando io posso evitare le elisioni sapete che poi queste operazioni qua vengono fatte in percentuale quindi a volte l'impatto è veramente irrisorio evito le elisioni perché non avrebbero nessuna ricaduta effettiva sul consolidato i bilanci del capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati per voce quindi per l'intero comparto quando procedo con il metodo integrale quindi quando io ho il controllo faccio il 100% faccio le somme tanto per capirci per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate se la partecipazione è diretta e totalitaria il metodo integrale proporzionale non differisce perché è tutto 100% quando invece ho una partecipazione pro quota quindi andrò ad applicare il metodo proporzionale quando avrò una quota di partecipazione all'intero della partecipazione dell'altro ente che vado a consolidare per importo proporzionale alla quota di partecipazione quindi abbiamo visto il metodo integrale che è una sommatoria assoluta dei valori vediamo il metodo proporzionale elementi patrimoniali ed economici dell'entità controllata vengono iscritti nel bilancio consolidato per un valore pari alla percentuale della quota di partecipazione detenuta consolidamento proporzionale previsto nel caso di controllo congiunto se la partecipazione non è totalitaria e quindi non è un cento per cento tutte le attività passività e costi ricavi partecipano pro quota e infine proprio in chiusura vediamo quali sono i documenti che compongono il consolidato bilancio consolidato inteso come aggregato contabile di diversi soggetti è configurabile come un fascicolo il bilancio consolidato sarà effettivamente un fascicolo ed è quello che voi ritrovate all'interno delle pubblicazioni sull'amministrazione trasparente dove io ho stato patrimoniale consolidato l'economico la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e la relazione dell'organo di revisione dell'ente capogruppo quindi abbiamo fatto questo passaggio che ha previsto l'introduzione a quello che è la normativa del bilancio consolidato abbiamo visto come sono le forme di consolidamento le operazioni di pre consolidamento e con questa fase finale si conclude il momento di confronto di oggi faccio l'invio per un approfondimento ulteriore a quello che è il fascicolo che ho avuto il piacere di redigere insieme alla collega la dottoressa Zollo dove si fanno anche varie esemplificazioni pratiche di tutto ciò che abbiamo visto ovviamente nel rispetto dei 55-60 minuti a disposizione quindi io mi congedo vi faccio presente che qualche giorno sarà disponibile sul canale YouTube la registrazione di questo evento al pari sul portale di formazione tuttopia ci sarà l'evento con le slide e altro materiale e quindi vi saluto e vi auguro buona giornata